Ciao, iniziamo? Che dite? Ok, siamo in onda Salve, bentornati Stavo pensando che è da un po' che non facciamo una puntata Quindi siamo un po' fuori forma Ma possiamo chiamarla Pausa di Pasqua Possiamo chiamarla Pausa di Pasqua e ora siamo tornati Esatto, sono molto emozionato Perché oggi abbiamo come ospite, abbiamo Gammon Grazie Grazie per essere qui Grazie mille per essere qui Grazie a voi Grazie di farci ripartire bene dopo la pausa E dopo che i nostri fan innumerevoli ci hanno detto ripetutamente Ma quando tornate, quando tornate, eccoci qua Bentornati a tazza di caffè Siamo risorti Tu in questo periodo sei in tour? Sì, è vero Altro tour totalmente sold out Incredibilmente Tutto Anche lo possiamo dire Però sì, sì, sì Quindi in realtà non sei qui per pubblicizzarlo Ma per vantarti che è tutto sold out Esatto, non ho ancora avuto modo di vantarmi di questa cosa qua Però sì E poi giustamente uno dice Vabbè, bravo, complimenti Fai bella musica per i tuoi concerti Sold out Invece non sono concerti Ok, infatti questa doveva essere la seconda domanda Io non so quanto si può spoilerare Perché ovviamente Sì, si può spoilerare Ormai è sold out Quindi Vi fottete che vi devo dire Avete comprato il biglietto Magari ci sarà una seconda parte del tour No, no, no Infatti Non so Quindi non so quanto si può spoilerare su Su questo spettacolo Mi regolò Da dove arriva lo spettacolo Cioè Ok, ok Come nasce Perché tu in questi anni Comunque ti siamo facciata anche la stand up Sì È vero Io mi ricordo il primo per Mike l'hai fatto L'ho fatto in Santeria piccola qui a Milano Sì, mi ricordo Edoardo con Fonte 2018 forse Sì, sì, sì Sicuramente erano prima della pandemia 2017-2018 credo I miei tempi di gestazione a quanto pare sono molto lunghi È giusto così È giusto così Sono molto lunghi Avevo Ho avuto anche altre cose diciamo Dell'altro lavoro Quello da cantante Giusto da fare Giusto un paio di Sanremo Sì, esatto Esatto Mi piace che il tuo secondo lavoro Per poter fare stand up È fare il cantante Sanremo Sanremo Ho fatto così una roba Cioè chi fa il cameriere Tu facevi Sanremo Poi suonati in Santeria piccola Allora Diciamo Ritorno alla domanda Quello che sto facendo È uno spettacolo È uno spettacolo È un monologo Ok Intervallato da pochissima musica Ma siccome Io sono fatto così E quindi sono stronzo La testa e i piedi Non faccio nessuna canzone Del mio repertorio Ok Nessuno che viene a vedere Lo spettacolo Vede Io e me che faccio Rosa e viola Ok Non mi sembrava Un'operazione disonesta Sono sincero Cioè a me non mi fotte Di fare il Il cantante Adesso ha compiuto 40 anni Ed è lì Che si compiace Racconta due cazzi suoi Che fa un po' di risata Con i suoi commensali E poi dopo Gli tanto canta le hit Non sono io Ok Nel senso O mi rischio il culo Per intero Infatti tu hai fatto Completamente l'opposto Cioè la cosa più rischiosa Una cosa completamente nuova Assolutamente sì Diciamo Adesso all'inizio Sono tutti i vostri Anche magari in cui vi esibite Voi e che conoscete È intervallato Invece È intervallato La musica poca Lo dico A favore di camera Però sono O benani inediti O un paio di cover Del tutto Inaspettate da me Cioè proprio Cose che quindi Non si vedrebbero Da un'altra parte Ma sono abbastanza ridotti All'osso E per il resto È tutto un monologo C'è una parte volendo Anche banalmente Di storytelling Ma In questi anni Che osservavo E guardavo La stand up Di tutti i tipi In fondo Chi è Che dice Quali sono i confini No 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 Assolutamente Ma infatti Scusa Partiamo da lì Cioè Tu hai scelto Di fare questa cosa Per la tua passione Per la stand up Che hai sviluppato In questi anni Eh Guarda Ti posso dire La sicera verità Allora Ho iniziato Ad appassionarmi Alla stand up La verità Appartenuto e crudo Cioè A parte le prime due cose Di Eddie Murphy Che ovviamente Per ora Non ho Come si dice Precoscienza Sì esatto Cioè Manco me ne rendevo conto Dico Quella con Quei due spettacoli Di Eddie Murphy Tutti hanno una storia Così su Di Eddie Murphy Conoscevi la stand up Prima di conoscerla Anche Credo Anche Spettacolo Anche di Richard Pryor Avevo visto Perché in quel periodo C'era un mio amico Che era particolarmente Appassionato Diciamo Di stand up E comicità Però afroamericana E quindi ovviamente Questi erano i due Anzi Richard Pryor Prima Ovviamente Neanche ne avevo Tanta contezza Ma ovviamente Ero vivo E vegeto Quando c'era Il chapelle show Perciò ovviamente Anche quello Però il mio amore Vero Per la stand up Nasce Quando ho visto Lui La prima stagione Di lui Di Lucy Kay Lì ho capito Che era un Cioè ho detto Che cos'è Se è un fatto Mi piace perché Anche io è uguale Cioè mi sono appassionato Guardando quella Cioè voi sono Spettacolo di Lucy Kay E poi la serie Subito E ho detto Ma questa è una cosa incredibile Subito Non so se è stato Contemporaneo Subito dopo Ho trovato lo spettacolo Non me lo ricordo Con grande sincerità Da lì in poi Io ho iniziato a capire Quello che succedeva E in quel momento Le piattaforme ancora Non c'erano Quindi a scaricarmi comunque qualcosa E mi sono appassionato Qualche anno dopo Lo dico proprio Sinceramente Quando ho avuto la depressione Che era un periodo Veramente De merda E invece poi Le Netflix di turno C'erano E come Mi sono fatto Delle grandi scorpacciate In quel periodo Perché sicuramente Era una delle cose Che Sì Stavo praticamente Sempre chiusi in casa Non è proprio Un periodo piacevole Ne guardavo tanta E lì Ho proprio Trovato Soprattutto In tre o quattro Che non per forza Sono i più bravi Però in tre o quattro Spettacoli Ho anche trovato Un racconto Di quello che mi stava Succedendo in quel momento Ed è come se Dentro mi fosse scattato Un fatto di Posso parlare Di queste cose Ok In qualche maniera Anch'io Mi sento che stanno Parlando una lingua Che vorrei parlare E poi ovviamente Tra il dire e il fare C'è tanto tempo Di mezzo E quindi niente Prima di cinque minuti Depressione subito No 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 Del resto Tazza di caffè Vuoi spiegare Il perché Di questo titolo Ah sì Il titolo Di tazza di caffè Nasce da una citazione Abbastanza depressa Che è una citazione Di Albert Camus Che è filosofo Famoso per essere Non molto Non sempre allegro Che lui diceva Samattina mi sono svegliato Ed ero indeciso Se suicidarmi O bere una tazza di caffè La nostra idea è essere La tazza di caffè Bellissimo Parlando di depressione Tutto il tempo Esatto No infatti la mia domanda Del Da dove arriva questo spettacolo Era proprio questa Cioè Arriva dalla tua passione Per la stand up O comunque le esigenze Sono altre E hai mescolato Anche la stand up No è arrivata Per un'esigenza Di comunicativa E ovviamente Ho incamerato Talmente tanto Di quello E ho capito Che in realtà Mi parlava Pensavo che potesse essere Un mezzo espressivo giusto Cerco di spiegarlo Cioè cerco di dirlo E spiegarlo anche Ai miei amici Diciamo con cui sono cresciuti I miei amici di infanzia Io sono Chiaramente non sono Quello che fa più ridere Della committiva Chiaramente non sono Il più simpatico Della committiva Non avrei mai potuto fare Non so Il Come si L'animatore Villaggio Sicuramente Non sono io Sono una persona Timida Introversa Però Ho La mia maniera Diciamo di arrivare Alle cose E anche di ridere Sulle cose O di sottolineare Delle cose Ce l'ho io C'è la mia patria Ce l'aveva mio nonno E proprio In una linea di famiglia Di osservazione Di sarcasmo Quindi quello lì Era proprio Il Il metodo giusto Ci ho messo un bel po' Devo dire che Sono stato anche aiutato Quindi li nomino Cioè quando ho fatto Il primo Open mic Con il mio primo pezzo All'epoca La persona che mi ha Diciamo Ha sentito il pezzo Al telefono Era Michela Ciro Che mi ha detto Sistema qua Sistema qua Però si tratta di tanti anni fa E invece In tutto quanto L'approcciarmi A questo spettacolo qui Oltre ad avere conosciuto Tanti di voi Però Ha lavorato con me Carmine del Grosso Carmine del Grosso E quindi ovviamente Avere anche Il vantaggio Di un amico Che ha un'esperienza Anche sul campo Non solo di osservazione Ma che anche ti dice Taglia qua Qui non funziona Giusto Secondo me Potresti Potresti fare questa cosa Devi farti Open mic È un grande vantaggio È stato un mentore Volevo chiedere Da quel periodo In cui hai fatto La scorpacciata Hai visto un linguaggio Che ti ispirava Poi quanto è passato Che hai pensato Di farlo effettivamente Di provare un pezzo In un open mic Lì per fare il primo pezzo Quello lì Diciamo Di cui sta parlando Sandro E boh Sarà passato Un anno Un anno e mezzo Ci ho messo tanto Però In questo caso Sono avvantaggiato Perché faccio il cantante Ma è anche Era anche un giocarsi Il culo Eh sì esatto Ma infatti Questo è anche interessante Quindi devi trovare Comunque un certo tipo Di coraggio Non ti vuoi confondere Con gli altri Non vuoi fare un buco Nell'acqua Perché dici comunque Io vorrei fare una cosa La voglio fare bene Non voglio fare Lo stupido No certo No certo Perché infatti Questa cosa è Un'arma a doppio taglio Cioè da una parte Ovvio C'è Gammon Che fa un pezzo di stand up Per la prima volta In sala ascoltano tutti E sono tutti interessati Dall'altra È Gammon Cioè un esordiente qualsiasi Si arriva e sbatte la testa Pazienza Invece no Dicono Sì Non mi ha fatto tanto ridere E c'è un danno Che dura più a lungo Rispetto a un esordiente Eh no Cioè esatto Tu la sentivi Arrivi già con un nome grove Cioè arrivi già Che sei un nome La prima volta La prima volta non c'avevo Sicuramente era un momento Della mia vita In cui non c'avevo niente Da perdere Cioè nel senso Che era anche Ripeto Anche pre Sanremo Pre ed ero Ancora Stavano succedendo Perché comunque avevo bisogno Di raccontarle Ci sta Quindi l'hai fatto un po' Per esorcizzare Anche le cose Che stavano succedendo Sì sì assolutamente Mi ricordo Questa non l'ho mai Utilizzata Mi ricordo Però ecco A pensarci oggi Che invece ci ho ragionato Di più Ci ho lavorato di più Che Nel pezzo di allora Avevo appena fatto Insieme a Francesca Michelin Il giudice No il giudice Sì Avevo partecipato Nella giuria Che selezionava Le canzoni Dello Zecchino d'Oro Io ovviamente Non venivo Assolutamente Da quel mondo Però quando Mi hanno chiesto Questa cosa Ho detto Vabbè ma è cazzo Figato Sembrava una roba assurda C'era tipo Il maestro Beppe Vessicchio Quel giorno Quindi dico Vabbè la faccio Questa esperienza assurda E la faccio In realtà Ascoltiamo Non lo so Duecento canzoni Di bimbi Capisco comunque Un sacco di cose E poi Ora che ci penso In realtà Io non avevo Neanche contezza Di come le dovevo Scrivere le battute Però mi ricordo Che In quel pezzo Avevo raccontato Questa cosa E avevo detto L'idea di Rovinare la vita Di un bambino Mi ha subito fatto Sentire Papà Certo Tu di hai tutto il potere In mano Ho subito provato Desiderio di paternità Questa era stata Ed Pensarci oggi Evidentemente Forse avevo capito Alcuni dei meccanismi Su cui poi dopo Magari Ci ho studiato Magari un po' di più Però erano venuti fuori Così Ok Ok E poi comunque Cioè la musica Comunque c'è Nello spettacolo Sì sì Resta Parte importante Sì sì assolutamente Di quello che fai Insomma Oh no per me sì Quello sì Sono tutti preoccupati Però Sono tutti preoccupati Sì Non importa Sono poliamoroso Puoi amare Lo stand a pelle Molto bello Assolutamente Ma del resto Come anche nella musica Hai sempre sperimentato Sia all'interno della musica Poi lo fai anche Con altri generi Vedi ultimamente Anche persone Che hanno visto Lo spettacolo Molto poche Magari un paio di persone Sono venute alla fine E mi hanno detto E adesso il nuovo album È questo È un'ora e venti È un'ora e venti Di materiale Con So 20 minuti Di musica nuova 25 minuti Di inediti Più tutta altra roba scritta Questo È Un disco Sì È la nuova Il nuovo progetto Questo è un nuovo progetto Aspetta che poi arrivo Pure con le altre cose Però Tipo i tuoi agenti Manager Sono andati un po' in panico Quando hai cominciato a Claudio Claudio è mio manager È una persona Grande di età Ha 60 anni Ma è molto giovane Di testa Ha sempre lavorato Con artisti Abbastanza Tra virgolette Di rottura Ha lavorato In passato Con Non so 99 post Con Neffa Con Alborosi Caparezza Ora Lavora con me Con Diodato E sicuramente Uno Abituato Ai pazzi Mi ha tenuto Testa Un po' Perché comunque In qualche maniera Voleva anche testare Che non fosse Un'idea venuta All'ultimo minuto Perché Una fase Esatto Una fase E all'ottavo Non lo disco È arrivato a 40 anni Non ci capisce più un cazzo Non sa che vuole fare Però poi a un certo punto Si è reso conto Pezzettino dopo pezzettino Che per me Questo era un fatto Reale Importante E ci spendevo tanto lavoro E che ci potevi vendere Dei biglietti Soprattutto Anche Esatto Che poi Che poi comunque Allora Premesso che Se non ci fosse coerenza In un percorso artistico Non sarebbe un problema Ma che poi io in realtà Io Cioè hai cambiato tanto Ti sei evoluto tanto Hai sperimentato tanto Ma io ci vedo tantissima coerenza In tutto il tuo percorso Cioè sia E poi ripeto Se non ci fosse coerenza Comunque non è necessariamente Un problema Però Ce la vedo tanto Cioè sia a livello musicale Nel senso che Se io sento i tuoi primi dischi Trovo tante cose Che trovo nella tua musica oggi Cioè da Cioè già Nella rivincita dei buoni C'è tantissimo Di quello che fai oggi E ovviamente È voluto È cambiato Se è voluto Ed è cambiato C'è E trovo tanto Anche Un sacco di roba comica Soprattutto nelle prime cose Rap che facevi Io mi ricordo Io ascoltavo Sempre Quando ero ragazzino Il pezzo rap Che era già Era già un nucleo Un pezzo dove Prendo per quello Tutti gli esseri Ottimi Sì esatto Che ancora fa ridere Perché è ancora attualista Cioè tante cose Fanno ridere Come se fossero scritte Per oggi Allora Quello che mi hai fatto È un grandissimo complimento E quindi ti ringrazio Non ho mai veri Cioè è proprio una cosa Lo è perché Comunque è un mio desiderio Diciamo Andare avanti Ma anche Averci un filo di continuità È importantissimo Devo dirti Che è il commento Che mi onora di più Dopo che le persone Vedono lo spettacolo Cioè che mi dicono Ti abbiamo visto Parlare Diciamo Con un altro Mezzo Ma A noi Non ci sembra Che sia cambiato Niente rispetto Alle cose precedenti Cioè continuiamo A sentire Il tuo racconto Fatto Diciamo in un'altra maniera E questo sinceramente Vi dico la verità No ma è molto bello Che cosa devo desiderare di più Desidero assolutamente questo Cioè cambi linguaggio Ma la tua sensibilità Nel raccontare Il tuo modo Rimane quella Sulla parte comica In realtà Ecco Il canto Rispetto al rap È stata la stessa cosa Cioè è stato un desiderio Che magari avevo paura Di affrontare Per paura di fallire È proprio Semplicemente la verità Cioè che qualcuno Mi potesse venire a dire La sapete È la sindrome dell'impostore Che la polizia Della comicità A un certo punto Mi diceva Non fai ridere E ridarci il cartellino Ci hai provato E non è andata bene Non lo puoi fare No Quindi ovviamente Anche col canto È stato così Cioè ci ho messo Tanto tempo Ad accettare l'idea Che lo potessi fare Ma Chi Vede i miei concerti Diciamo dagli inizi Può dire che io In continuazione Col piedino Testavo se l'acqua Era freddo Era caldo In continuazione In continuazione In continuazione Poi per un periodo Ho fatto anche Un periodo dove Non facevo i concerti Facevo una cosa Che era Una specie di radio Dal vivo Podcast dal vivo Dove facevo Invece di mettere i dischi Raccontavo Gli ascolti Della mia vita Ok E quella era Per i tre quarti Anche perché Di solito mi bevevo Tra le 1 e le 2 Bottiglie di vino Da solo Sul parco Ok Quindi quello era Un continuo Andare sempre A parare là Sempre a parare là Sempre a parare là E A un certo punto Dopo 4-5 volte Che lo facevo Si erano anche sviluppate Delle piccole routine Proprio comiche Ok Che io ripetevo Cioè che ormai A un certo punto Ti sei reso conto Che erano le tue Lo sapete quando fate i set Cioè che magari Voi avete preparato Delle cose Poi dopo andate dal vivo E a un certo punto Una cosa diventa Una battuta che non c'era Assolutamente Un commentino Poi rimane Sì io scrivo tanto Sul palco Io scrivo tantissimo Sul palco Assolutamente sì Perché ti aggiusti Con le persone davanti E quindi ecco Questa è una cosa Che non posso fare Con la musica E quindi per me Questo è un privilegio Ok certo Questo è un privilegio Ma a proposito Ti sta piacendo L'esperienza di fare Una performance Che non è un concerto È una cosa diversa Cioè proprio Adesso Che hai inventato Questa nuova cosetta Così Abbiamo detto Stavo pensando Ma abbiamo parlato Tanto senza Una cosetta così Una cosetta così Come te la stai vivendo Questo modo diverso Di stare sul palco Sono molto contento Perché vedo Che ogni volta Che sto andando Sto imparando qualcosa È ovvio che C'è anche l'entusiasmo Dell'inizio Le persone ci sono Però anche qua Un'altra volta Ripeto Bisogna vedere Anche qual è La posta in palio Che cosa Mi metto in gioco Mi trovo dei set Dove Per esempio Ora ho fatto Taranto da poco Bellissimo Due set di fila A me non mi capita Di fare due concerti La stessa sera È impossibile Quindi è già Un'emozione fantastica Il set delle 19 Era C'erano tante persone Molto grandi di età Molto grandi di età Ed era un pubblico Un po' più silenzioso Più in ascolto Era pieno Ma era comunque Più silenzioso Ok E piano piano Che andava avanti E non riuscivo bene A capire Se stavano entrando Le cose non stavano entrando Se quel pubblico Era a vezzo O no Poi l'ho capito dopo Da Perché mi hanno Poi mi hanno scritto Sui social Mi hanno scritto Che gli era arrivato tutto Però nel durante Pensavo Ok E non c'è il tempo Di farlo con le canzoni Eh no certo Ok ok Allora aspetta Questa cosa Questa battuta Su Baby Gang Non la posso fare Devo dire Quella dove c'è Dove c'è cannavacciuolo Ok In un concerto Non può succederti Che cambi il testo Di una canzone Perché lo devi adattare A un pubblico diverso Qua devo accorciare Qua devo girare indietro Non faccio il bridge Perché non sta entrando Esatto Noi sto entrando Devo girare E in più Un'altra cosa Che poi comunque Alla fine è andato bene Però in più Tra un set e l'altro È capitata una cosa Che non può del tutto Capitare Con un concerto Ho avuto una reazione Cioè? Hai avuto il feedback? Ho avuto No no Conscio di quello Che era successo Nel primo set Che era stato Comunque un set silenzioso Il mio corpo Si stava ricordando Che c'era stato Più silenzio Di quello che gli piaceva Ok Ho detto Adesso mi cambio E chi c'è c'è dopo I spacco il culo Ah che bellissimo Abbiamo assolutamente presente Quella sensazione Quando facciamo i 27 È vero Succede spesso Che magari Quando il primo set Non va tanto Non va tanto Secondo set Con il telo fra i denti Può capitare anche Che il primo set Lo fai a bomba E il secondo Perché ti rilassi troppo Perché vai troppo E sinceramente Se vi devo dire Cioè tutto questo Ma anche poi Ripeto Il Questo Questo Invece Con le canzoni Succede Lavorarsi le persone Fino alla fine Fin quando Non le hai portate Dalla tua parte È un'altra roba Molta Bella Quindi Quindi A verità Sì Bello Non lo so Quanto Quanto in avanti Durano i sold out È partita bene C'era tanto in gioco Mi gasa tantissimo Il fatto Io faccio sempre Un parallelo Costante Tra la stand up E il movimento Diciamo Della stand up Italiano E l'hip hop Italiano Ok Hanno avuto Diciamo Il stesso modo In cui si sono originate E comunque Il rap Principalmente È Un racconto Di quello che stai facendo Mentre lo stai facendo È l'unica musica Che lo può fare Diciamo È difficile Che un cantautore Lo possa fare Sto scopando Questa bitch Non lo so Si è andrega Capito È difficile È la stand up Allo stesso Identico Stessa identica dinamica Cioè deve stare sul pezzo E puoi anche Parlare di quello che fai Mentre lo stai facendo Non per forza E quindi questo Ha un dinamismo Certo Guarda come parlo bene No no È vero Quando Come ti giusti Fa sto scopando Questa bitch È dinamismo Sì Cioè Questo fa capire Tutta la complessità Dell'uomo Dietro l'artista Esatto 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 Ma io ne approfitto Per chiederti una cosa Che volevo chiederti Che rapporto hai Con il rap adesso Che comunque poi Secondo me Non hai mai smesso Poi di Di fare Musica e pop Totalmente No 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 Assolutamente Esatto Io scusate intanto Devo ogni tanto Spegnere e accendere la camera Abbiamo questo Vai vai tranquillo Tranquillo Ma chiudiamo la finestra Sì forse è meglio Chiudere la finestra Di solito Ci sono rumori più Tipo gli uccelli Sì sì Oggi Il tempo è così così No e quindi Dicevo che Guarda ogni tanto Che rapporto hai col rap oggi Nelle interviste Quando mi veniva domandato questo Che rapporto hai Con la scena rap italiana E io rispondevo Buongiorno e buonasera No io ero Io ero più interessato A livello musicale No no Altrettanto Allora domani esce Un pezzo Diciamo in cui sono ospite Dove ho rappato E quando c'è C'ho voglia di rappare Rappo Ok Ritagliarmi questo Ritagliarmi questa cosa E Essermi ritagliato Questa libertà Io ma Mi ne ascolto Tantissimo di rap Come mi ascolto anche Altra musica nera In generale E quello che mi ascolto Comunque tutti i giorni E quindi Non ho voglia di rincorrere Cioè non c'ho voglia di fare Un pezzo Drill Non so Sulla Drill Io sono abbastanza Mi piace quella Che fanno in America In Inghilterra Esatto In Italia non sono ancora riuscito A sentire qualcosa Che mi hai fatto dire No ma io ho sentito Un pezzo Che è uscito Qualche giorno fa Forse una roba Di Red Bull Di Lazza Sì Mi è capitato Sui social E Per me Lazza è bravissimo Assolutamente Uno dei più bravi E sembra Cazzo Sembra Pop Smoke Su quel pezzo Io mi sono Chiesto Se Avendo un beat Tra l'altro Super figo L'avrei fatto Così Ti dico No No Non devo Io non devo Inseguire quella roba lì Devo dirlo comunque Con i miei modi Anche aggiornati Ma non per forza Però li sento Li so Li ascolto E cerco comunque Di trovare la mia strada Un po' fricchettona Mamì Te l'avranno chiesto Un sacco di volte Ma Chi sono Invece i rapper Che ti hanno fatto dire Ti hanno fatto pensare Di voler fare questa cosa Di voler cominciare con il rap Chi sono quelli che ascoltare Posso provare a indovinare Vai indovina Secondo me Nei tuoi primi dischi C'era tanto di Common Sì sì no Beh sì Sicuramente Quello anche Anche già palesato Probabilmente l'avevi già detto Però c'è Si sente tanto Ce ne sono altri Anche le produzioni Che sceglievi Sicuramente Eravamo comunque In quel Vabbè c'è tutta una wave Di rapper Di quel periodo Che mi hanno Sicuramente Ispirato ad andare Nella direzione In cui sono andato Dove c'era molto Molto Miscuglio Con la musica Che poi ho fatto Quindi a parte Common I The Roots Una band sicuramente Mi piace tanto Gli Outcast Altrettanto E poi C'è una serie Di altri artisti Come non faccio Una lista Lunga Più recentemente Sicuramente Kendrick Lamar Sicuramente Ovviamente Figurati Anderson .Paak Però Questo lo dico Magari invece Da Una persona Grande Di età A un certo punto Le ispirazioni Sono più Devo cercare Di far avere Alle persone Lo stesso genere Di reazioni O guarda Quante cose Posso fare E non Devo fare Una cosa Col beat Come Devo creare Devo cercare Di far avere Alle persone Lo stesso genere Sono più Un esempio Che è Un'ispirazione Certo Ma questo C'è anche Almeno io Con la comicità Penso anche Quando inizi Magari Anche senza volerlo Tendi a copiare Che ti piace Poi ad un certo punto Ti accorgi Che Prendi la tua strada Come è giusto Che sia Mi piace questa cosa Che vuoi Cioè A un certo punto Fai il passaggio In cui capisci Che vuoi arrivare Ad avere Lo stesso effetto Di quella persona Lì Di quell'artista Lì Ma a modo tuo Esatto Esatto Ma Scusa Se torno Se poi ne vuoi parlare Del periodo Della depressione Non c'è problema Mi affascina Cioè Tu pensi Che anche Scoprire la stand up E cominciare a pensare Di approcciarti Al mondo Nella stand up Ti abbia aiutato A uscire Proprio Da quel periodo Sicuramente sì Sicuramente sì Non posso dire Che questa è stata L'unica cosa Però sicuramente Era un momento Di sollievo Di condivisione Di malcomune Mezzogaudio Di La roba si può vedere La roba non è una roba Che scompare così Ma è una condizione In qualche maniera Che bisogna affrontare Durante la vita Poi magari Più o meno tutti i giorni Quindi è anche validato Quello che stavi passando Sì sì Assolutamente C'è L'ho detto più di una volta Ma non perché io voglia dire Che questa sia Siamo andati a vedere Jim Jeffries Jim Jeffries è uno dei suoi spettacoli Ne parla E me lo ricordo benissimo Che era Una delle prime robe Ne parlava e mi aveva Mega scioccato E di lì a poco Fai di lì a Una settimana Guardo Three mics Di Neil Brennan E lì dentro Ovviamente lui si sposta Su tre registri Sui tre microfoni E anche lui Tocca la stessa roba E dico Aspetta un attimo Ma allora Se ne può parlare Allora non sono Cioè non era solo un caso Quello che ho visto L'altro giorno Se ne può parlare Ah loro dicono Che si sentono così Quindi non mi sento Solamente io così Quindi è stata una Grande cosa A livello di condivisione Io mi ricordo Sì ho avuto questa sensazione Con lui CK E anche Jim Jeffries Io mi ricordo che La cosa che mi aveva sconvolto Di quel pezzo lì Sulla depressione Era che poi faceva Super ridere Cioè quando parlava Della sua depressione Faceva morire da ridere Da una cosa che mi aveva Proprio Mi aveva impattato tanto E lì evidentemente Si è creato il germe Nel mio cervello In maniera più Non solo da spettatore Poi ci ho messo Il tempo che ci ho messo Per fare Il primo pezzo E poi sono successe Delle altre cose Diciamo Nella parte musicale Nella parte musicale Che ho perseguito A pandemia Tutto quello che volete E per fortuna Poi a un certo punto Quando Ho ritrovato Diciamo C'era anche Saurita una Sono usciti due dischi In pandemia Ho fatto un altro Sanremo E' finito il mio contratto Ho finito I tour Diciamo Alla fine del 2021 E lì ho proprio deciso Di entrare nel momento Di silenzio E di Non lo so Vivo E vedrò Qual è il prossimo passo Quindi Quando ho iniziato A rivivere Diciamo una vita Non solo Di interviste Di concerti O di altri cazzi Sono ritornato E ho detto Ma questa cosa qua Non va bene E soprattutto Non posso Infatti lì Ho smesso Di utilizzare Twitter Proprio da un giorno All'altro Che invece era La roba Che più persone Mi dicevano Io ti seguo Solo su Twitter Perché fai Troppo ridere Ok Perché ovviamente Io lo utilizzavo Per i miei one liner Però a un certo punto Ho detto Ma io me ne fotte Cioè me ritengo I miei one liner Giusto Piuttosto li uso In un altro modo E un altro posto Meno tossico Giustissimo Esatto Perché stava diventando tossico Cioè stava diventando Devo aprire Twitter E mi devo fare venire in mente Una battuta Non funziona Non so Almeno Faccio un altro lavoro E quindi poi Hai smesso di usarlo Non l'hai più ripreso Ogni tanto Metto un link E vedo che l'interazione Commentaci a caldo Questa acquisizione Di Elon Musk Di Twitter Di tutti i casini Lo ha immerdato Ancora di più Che già Twitter Stava diventando Facebook Senza neanche passare Da Instagram Cioè All'improvviso È diventato Non lo so Voi lo usate Io su Twitter Sono molto ignorante Io lo usavo Non riesco più A usarlo Perché veramente Si è immerdato Completamente Io nel mio profilo Twitter Ho quattro tweet Che risalgono Tipo al 2016 Quegli anni lì E tutti e quattro Scrivo cose tipo Sono qui perché Facebook è in down Sono tipo Quattro tweet E ho solo quelli E ho deciso Che il mio profilo Twitter rimarrà così Per sempre Però sono molto Ignorante con Twitter A me Facebook Facebook sicuramente È stato In tempi Non sospetti Un inizio Sicuramente Del mio Di un mio momento Di down Grosso Però mi faceva Valissimo Ok Prima che se ne parlasse Diciamo su Instagram Quando Instagram Non c'era più E quindi a un certo punto Me lo sono cancellato Ok Cancellato e non ce l'ho avuto Più per un anno E sembrava Che tu avevi fatto Le serial lì Sola d'Elba Quando ti toglievi In quel momento Facebook Perché ce l'avevano Tutti All'epoca Facebook Sì 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 Cioè mi sentivo tipo No io non ce l'ho Ecluso dalla società Sì auto escluso Un reietto Incredibile E di lì a poco Avevo visto poi Che c'era Twitter E in quel momento In realtà Twitter Era molto meno invasivo Cioè non dovevo Accettare amici Di nessuno Dovevo solo seguire Quello che mi interessava Sì ma poi è vero Che all'inizio Cioè l'appel di Twitter Era quello Che era molto più tranquillo L'ho utilizzato Tanto 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 E anche durante I due San Remy L'ho utilizzato Proprio per far venire Fuori sta roba qua Cioè che Alla fine Al di là di prendersi Sul serio Sul palco In realtà Mi piaceva Cazzeggiare Sulle robe E quello effettivamente Ha attirato Un sacco di persone Poi l'ho smesso Perché mi volevo Tenere le idee Divertenti Ma ti è capitato Di ritornare Sul profilo Twitter A cercare battute Da poi usare No non mi è ricapitato Però in realtà Secondo me Ce ne saranno Ma facciamo un sacco Potresti farlo Qualche spunto Lo troverai sicuramente Sì sì Penso di sì Penso che qualche cosa Di simpatico Qualcosa di simpatico Alla fine capita A tutti Cioè perché Arriva sempre il momento In cui finisci le idee Dici Avrò scritto qualcosa Di intelligente Prima o poi Sui social E vai a rivederti tutto Questo capita Anche con le canzoni Delle volte I ragazzi Diciamo con cui I ragazzi Della band I ragazzi con cui lavoro Gli dico Sì 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 Magari mentre stiamo Componendo qualcosa Dico non dite niente Non dite niente Non dite niente Canto una cosa Tipo che risale A un demo Di sette anni prima Che non abbiamo mai usato Ok Ovviamente Loro mi dicono Prima di tutto Come hai immaginato Di farla su questi accordi Non lo so E io gli dico sempre Cioè pure voi Avrete delle frasi di chitarra Che non avete messo A nessuna parte Ma che sono fighe E sono rimaste lì E sono rimaste lì E in realtà Quelli sono Starting point Di un'altra roba Quindi sì sicuramente Vedi anche questo È un punto in comune No la creatività È tutta così Cioè ti metti là E metti al pizzo Anzi forse È sbagliato Per colpa dei social La troppa prolificità Nel senso che Pure che le robe a metà Qualcuna Se te la metti da parte Alla fine Te la riutilizzi Tra un anno Se è una buona battuta Mica E probabilmente Tra un anno Avrai anche il modo Migliore per utilizzarla Sì sì Buttare via le cose subito Spesso è un peccato Assolutamente Perché poi sembra quasi Che una volta che sono sui social Magari fanno un certo numero Di visualizzazione Cioè sembra che Ti senti quasi costretto A far sì che Quella battuta è cristallizzata così E invece non lo è Quindi è un peccato No ma più che altro Poi alla fine Seconda solamente la tua fame Di averci cuoricini Su quella cosa In quel momento Devi averci un po' di pazienza Difficile perché io so il primo A volte Mi fa stai stronzata Sì però Beh a volte però È anche banalmente questione Devi pubblicizzare un tour Eccetera E quindi ti serve quello Per tradurre quello Nel mondo reale Cioè per tradurre quelle cose Il problema grosso È quello dei social Esatto Il problema è quello A noi serve anche per il lavoro Banalmente No no È normale Infatti 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 Ci sta Adesso riesci ad avere Un rapporto più equilibrato Ancora Sì 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 uso solo Instagram Uso solo Instagram Diciamo Poi quando ho tanto da fare Lo uso di meno Quindi è sintomo Che sto lavorando Ok Quello è Cioè quando vedo Che non l'ho guardato Per la giornata intera È perché avevo da fare Fondamentalmente Sì 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 E quindi Mi piace un sacco Quello che fa Caparezza Che lui tipo Scompare per due anni Sì sì Poi arriva solo per pubblicizzare Il nuovo album Che è uscito Quello lo ammiriamo Beh sì però Anche un grande classico Sì sì Fanno in tanti Però c'hai Kanye West Ho tolto Instagram L'altro giorno Fra l'altro Speriamo che sia per Per sempre Esatto Per sempre E per Per lavorare al nuovo disco Esatto Soprattutto Il nuovo disco Che tu comprerai immediatamente Nonostante le dichiarazioni Di Kanye West Ma sì Vabbè Una persona che va aiutata Questo sicuramente Siamo tutti C'è un genio Ma va aiutato Perché non sa bene E dargli soldi È sicuramente uno dei modi Per aiutarlo L'aiuto Perché così Può finalmente Permettersi la terapia Era quello il suo problema In effetti Il suo problema grosso Era che non poteva Permettersi la terapia Sì Sai perché Perché non c'era Negli Stati Uniti È per quello Se ci fosse un welfare migliore Negli Stati Uniti No che stavi dicendo Scusi Io C'è una cosa che Credo di aver raccontato Che è strana Io mi sono appassionato A Kanye West Dopo gli ultimi scandali Perché se ne hai parlato tanto Io prima L'avevo sempre ascoltato poco E sentivo Cioè Sandro me ne parlava Ma non avevo mai approfondito Mi sono messo ad approfondire Ed effettivamente È uno dei casi In cui Cioè faccio più fatica A separare L'uomo dall'artista No 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 è difficile Ma è Cioè è la cosa Che vorrei riuscire a fare Perché effettivamente È un genio Nella sua arte Però è un coglione totale Come uomo Cioè quindi faccio proprio O almeno La mia impressione è stata Che è un po' un coglione Per me si sono Dalle cose che ho visto Hai capito da Io amo Hitler Guarda Lì hai detto Mi sbilancio Lì ho detto Guarda non ho più paura Di dire che secondo me Non è una brava persona Ma no Ma ha avuto un momento Non lo pensa neanche lui Ma non lo pensa Sicuramente non lo pensa Sicuramente non lo pensa Era Vedendo il documentario Su Netflix Ed era la terza volta Che nomino Netflix Durante questa cosa Quindi Qualcosa dovrà succedere E non diciamo Cosa potrà succedere Dateci almeno Almeno uno special In tre Ma sì Ce lo dividiamo 20 minuti a testa Io poi anche un quarto Dovrò non fare niente No a parte gli scherzi Comunque Ovviamente è stato Un grande Inizialmente Sempre Un grande punto di riferimento Un ascolto E figuriamoci Cioè È uno che veramente Ha cambiato le cose Negli ultimi 15 anni Ma proprio Assai E' anche più di 15 I primi anni 2000 Mamma mia Io mi ricordo di avere visto Kanye West La prima volta È venuta a fare una truffa In una discoteca a Roma Quando era Sì sì Raccontaci subito Questa cosa È una truffa Perché è venuto Ha cantato due pezzi E se n'è andato Ovviamente Veramente Però magari c'era Quel contratto lì Spesso le discoteche Che fanno contratti strani Soprattutto con gli americani Che prendono troppo Alla saponeria Ed era uscito Appena Il primo disco Di Kanye West Con lo stop out Ed è venuto E Era in una discoteca Ma dove forse C'entravano 400 persone A direttare Discoteca Poi è bello Che andava nelle discoteche A cantare Jesus Walk Ed è venuto Ha fatto Jesus Walk Me lo ricordo benissimo Ha fatto Jesus Walk E sinceramente Non mi ricordo Quale altro pezzo O due o tre Tu eri andato lì per lui? O per la serata? No ci mancherebbe Sì sì Era un posto dove andavo Perché era una serata La classica serata Diciamo Black Che c'era a Roma I primi I primi duemila Io che arrivavo Da Avellino Dalla provincia Per me Che andare in discoteca A ballare Rap Sì sì L'aveva mai visto Poi era anche Diciamo Multicolore Multietnico E multifemmine Perché Lo si può dire Era Multifemmine Possiamo dire Che sì Era bello Era una bella Era una bella Maglia per socializzare Non è che non si scopava Possiamo dire questo Cioè io forse Non tantissimo Però comunque Potenzialmente Potenzialmente sì E quindi erano Quelle classiche cose Di C'è l'opportunità Di Magari Che Viene a fare Una cosa In Italia Per un brand E Lo imbocchiamo Una sera E fa tre pezzi In discoteca Però all'epoca Si può dire Assolutamente Che era Nero Io non mi aspettavo Magari un concerto Quello non me l'aspettavo Perché eravamo In discoteca Però Era Cioè sto pensando C'è un Posso dirlo Vai Era prima Delle truffe Che fanno i trapper Adesso Stavo per dire questo Cioè Comunque Almeno Non eravate abituati Per questo ti ha stupito La truffa Io stavo dicendo Molti che vanno a fare I set in discoteca In realtà è una mezza truffa È il DJ set Però mi chiedo Sai come lo so che è una mezza truffa? Perché vedo spesso video di TikToker Che fanno un tormentone Che diventa virale E poi fanno 18 serate in discoteca Se lo può fare lui Che è letteralmente famoso Per una frase Che ha detto in modo buffo Penso che non sia così No no Quello sì Però sui rapper Sui trapper Che fanno i DJ set E poi cantano poco E le poche canzoni Che cantano Le fanno cantare al pubblico Mi chiedo Sono loro Che truffano il pubblico O è la discoteca Che fa credere al pubblico Che ha comprato Un concerto all'artista Ma ormai il pubblico Penso che lo sa Ormai il pubblico lo sa Quindi va Intanto in discoteca Ci vogliono andare Sanno che c'è anche l'artista Che spunta E fa le loro tre hit La cantano E finita Però dico Se dal punto di vista Contrattuale Questo rapper È d'accordo Per fare questa roba No vabbè Si può dire tranquillamente Che Io non ho mai fatto In vita mia Mi sono sempre rifiutato Però in gergo Viene chiamato Bancomat Eh sì Ok Quei lavori lì Che sono i bancomat Sì 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 Per gli artisti Certo Le persone sono contente Tu sei contento Quella di discoteca Ce l'ha piena Sono tutti contenti Però lo vogliamo dire Che Kanye West È uno stronzo? Assolutamente sì Perché non era ancora Il momento Di fare questa roba Se vogliamo fare i puri Dal punto di vista Dell'arte Cioè l'arte È l'unica cosa Che non vince In quel caso lì Però tutti gli altri Vincono Quello era proprio Chiaramente un bancomat Cioè lì era Kanye West Che stava cercando i soldi Per fare il late registration Tu quella sera Hai finanziato Il late registration Che è comunque Forse uno dei migliori dischi Della sera del resto Puoi comunque dire Hai fatto una cosa importante Quella sera lì Non hai solo assisto A una truffa Comunque dico In generale Ha avuto un impatto Incredibile Da tutti Anche a livello Di cultura popolare E quindi Non so che cosa dire Se non che Da quel punto di vista È un genio Poi Si vede Soprattutto nel documentario Ripeto Su Netflix A un certo punto Si vede che Ci sono proprio Dei problemi Bipolare Ci sono dei problemi Proprio di non prendere Le medicine E da lì Ovviamente nel momento In cui è attorno a te Nessuno ti aiuta E tu scapocci Dici delle cose Assolutamente insensate Però io Ci penso spesso A questa cosa Quanto Puoi giustificare Una persona Che sta male Se non si Fa aiutare Se non si cura E poi fa dei danni Alle altre persone E quanto puoi Giustificarla Dicendo Vabbè ma Un problema È bipolare Cioè Come dicevi tu Che Anche se non lo pensa Davvero Il dire Hitler era un grande Tutte quelle cose Contro gli ebrei Cioè Ha un impatto Comunque È una cosa Sì Ha fatto il problema Sì Ha fatto il problema Gli ultimi Gli ultimi Tre dischi Tre dischi L'ho mollato Sì Cioè Io da Jesus King L'ho mollato Io mi ascolto pure L'ultimo leak Cioè Mi è uscito Il mese scoperto Ma fai bene Perché Comunque ci sta Dicolo Ho un po' Mollato Nel senso Che li ho ascoltati Ma poi Tutta la deriva Diciamo Attorno Mi ha fatto cadere Palle Eh Fai fatica Poi anche A non pensarci Ok Cioè io Sa roba qua Ci penso Anche per Riguardo a me stesso Cioè in prima persona A volte mi sento In colpa Perché ho Certi comportamenti Mi dico Sì però Stavo male Ok però Non è che posso Giustificare le cose Stavo male Non lo so Beh comunque È un argomento Diciamo su cui Non c'è Un Sì Magari se tu non gli davi Quei soldi Quella sera in discoteca Lui non arrivava Ad avere tutto questo potere E dire Ho sbagliato Ma Non avrei dovuto Comprare le sue scarpe I dischi a pezzo Avrei dovuto fare Un sacco di roba Tu hai contribuito Indirettamente Al Lo so Al suo antisemitismo Io diciamo Che ho contribuito All'arricchimento Della carriera De Cagne West E al depauperamento Della mia Perché ho dato I soldi miei a lui Quindi ho preferito Chiaramente Che diventasse lui ricco E non io Però Vabbè Sì Direi che Dobbiamo passare Alle domande di Rito Ma sì A breve potremmo passare Alle domande di Rito Che secondo me Possono dare vita A discussioni interessanti Esatto Per quello passerei lì Prego Perché prima stavi per dirle Poi ti sei bloccato Per non spoilerare Adesso è il momento di dirlo Esatto Perché molto spesso Gli ospiti le conoscono Prima No io non la so Questa volta no Metto di non saperla Questa volta no Sarà ancora più divertente Vedere la proposta Sono domande molto larghe Abbastanza Non voglio dire semplici Perché poi spesso La gente è impastita Sono molto larghe però Cioè Per quanto riguarda La cultura pop Non so Musica Cinema Letteratura Tutte queste sfere qua È una cosa Che Ha una pessima reputazione Che a nessuno piace Ma tu pensi Che non dovrebbe avere Quella pessima reputazione Oh wow È al contrario Al contrario Una cosa che piace a tutti E tu non riesci Proprio a spiegarti Cioè Non solo non ti piace Proprio non ti spieghi Perché questo Perché piace a tutti Ok Allora 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 Mi ci devo pensare Quanti giorni ho Poi al prossimo montiamo Poi velocizziamo Sì Allora Una cosa che ha una pessima reputazione E che a me piace E con montiamo Intendo assolutamente Che Cioè mettiamo La cosa che a me piace È Kanye West Quando dice che Gli ebrei Non gli piacciono La cosa che mi piace L'antisemitismo di Kanye West La cosa che non mi piace È le canzoni di Kanye West No Ci dovrei pensare Sapete che non lo so Forse sulle cose Che hanno Una buona reputazione Che mi fanno cagare Invece lì magari Potrei avere una lista Allora iniziamola lì E tu adesso Pensa Tutti quelli che stai pensando Quelli che puoi dire a voce alta Esatto Perché di questo si tratta Uno che puoi dire a voce alta Nel nuovo special Di John Mulaney Che praticamente Lui racconta La sua fase Da cocainomane Da come è uscito E che sta per uscire Specifichiamo che non è ancora uscito Tu l'hai visto Io l'ho visto dal vivo Però questa battuta C'è nel trailer Quindi non la sto spoilerando E dice Vi racconto Io ho fatto tante cose imbarazzanti Durante il mio periodo Di tossicodipendenza E vi racconto questa cosa Super imbarazzante Che ho fatto E mentre la ascoltate Voi dovete pensare Solo una cosa Che questa è quella Che ho il coraggio Di raccontarvi Quindi pensa Quindi pensa Quindi no niente Questo mi sembrava Logica Tra tutte le cose Che stai pensando Allora Francamente Vabbè Non ti dirò invece Nomi di nessun collega Nessuna No no Non mi immaginavo Avrei potuto Avrei potuto Avrei potuto Chiaramente Ma quelli ce li dirai A telecamere spese Ma quelle più per eleganza Non per Solamente per quelli Perché poi Per paura No esatto Sono uno stronzo In fondo No Ultimamente Mi stai iniziando Mi sto iniziando A I podcast E in quale del due però? Ti stanno rompendo il cazzo Ti stanno rompendo il cazzo Sì Ok Mi spiego Ovviamente Cioè Se non mi piaceva Quello che facevate Non vedete Ovviamente presenti esclusi Ovviamente No Ma intendo dire Che una Prima di tutto Vai incontro Un'esigenza bellissima Un'esigenza bellissima Però Come La Diciamo Il digitale Ha portato Una democratizzazione Di tutto Per poter fare tutto Quindi anche una sovrabbondanza Di musica Sì Anche una sovrabbondanza Di Anche una sovrabbondanza Di podcast Quindi Anche podcast Su cose che non sono Assolutamente necessarie Di non ce ne fotte niente Ma puoi anche dire Podcast di persone Di cui non ce ne fotte niente Anche di persone O di Su storie Diciamo che poi bisogna Andare a tirar fuori Delle robe Impossibili Ecco Però lì è l'arma a doppio taglio Che c'è con la sovraesposizione C'è con la Guarda Così sono più specifico Giordano Non lo sono Perché lo dico Durante lo spettacolo Ma ovviamente Quello che dico nello spettacolo Non lo spoiler Certo Non hanno assolutamente Alcun interesse Perché in effetti I casi interessanti Di cui parlare A un certo punto Finiranno Cioè ne fanno Un milione Di quei podcast Sì perché Ci sono un milione Quindi si fa Rivangare più o meno Sempre le stesse cose Voi volevate qualcosa Di più succulento No 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 Vogliamo Vogliamo Risposte sincere Questo Diciamo Anzi Lo che volevo Era proprio un dissing Con i podcast crime Così ci porta visibilità Quando è un po' più Invece Una situazione Di scambi Analisi Diciamo O di storie Diciamo Di persone Che le raccontano Oppure Che cacchio ne so Di analisi Della realtà Allora per me È un attimo più Divertente Ascoltare i podcast Altrettanto no Ma e podcast Invece di altro tipo Ti piacciono? Li segui? Sì 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 Li seguo Diciamo Più che altro Magari cose Riguardanti Che sono dei bambini Che parlano Sì ci sono dei bambini Che tornano Chiusi in una stanza Per aiutare i podcast Di crime Lui sta Commettendo A dei bambini Nascosti In cameretta No no È per preparare Il mio podcast Di crime Così poi racconterò La mia storia E nessuno potrà raccontare Perché solo tu la conosci Finalmente potrò raccontare Un caso Che nessuno ha mai raccontato No Bambini nella casa di Giordano Foll Li ascolto Li ascolto Li ascolto Cose di approfondimento Diciamo sulla musica Soprattutto con Per esempio c'è il podcast Di Questlove Che si chiama QLS Che è un podcast incredibile Con degli ospiti Incredibili Dove Chi intervista È Tra i migliori musicisti Al mondo Quindi è estremamente Competente E fa Quindi delle domande Molto competenti A persone che hanno fatto Magari la storia della musica Anche dietro le quinte Quindi per me È una roba da insider Interessante Qualcosa di comedi Altrettanto L'ascolto Tipo tazza di caffè Interrompendo sempre prima Delle domande di rito Che è l'unico motivo Per cui non le sai Per il resto Tutte le puntate le ascoltate Esatto E poi invece Una cosa che sottovaluta Una cosa che Tutti fa schifo Salviamo qualcosa Non lo so La corsa La corsa Ecco Ecco perché In effetti Non abbiamo detto Che tu domani Parti per Londra Per una cosa Che possiamo dirlo Corro la maratona di Londra Corro la maratona di Londra Sì Diciamo che Diciamo che Adesso sì Mi piace correre Anche questo Ha una porzione importante Dello spettacolo Ovviamente parlando Della mia Più o meno Quotidianità Parlo anche di quello Però sì Mi piace correre Una cosa che detestavo Prima Sì io lo detesto Assolutamente Io mi forzavo di farlo Quando facevo Il periodo dove facevo Gare in moto Una vita fa Certo Che comunque fondamente Nessuno ci crede Ma la corsa è fondamentale Per andare in moto Immagino E io mi ricordo Che l'odiavo Veramente tanto E invece Ultimamente Mi sono addirittura Demandato Con altri Vecchi scureggioni Come me Oltre a 40 Però mi sono Dovandato Se sono andato Riandato a finire Nella corsa Perché C'avevo bisogno Di correre O se io avevo bisogno Di un momento Con me stesso E il mio cervello In qualche maniera Ha capito Che lì Potevo andare a cercare Quella pace Nel mio cervello Ovviamente Facendo fatica Mi sono domandato Se la vita Aveva la stessa roba Della stand up E mi domando Se Ci sono andato incontro Per delle esigenze Che non so O che sono inconsce Potrebbe darsi Però se ti fa stare bene Alla fine Il motivo Mi fa anche stare malissimo Immagino Immagino Ma come la stand up Quando vai male Ti fa stare molto male Io quando voglio I momenti come me stesso Cammino Che mi sembra Un bel compromesso Devo dire Fra i momenti No io cammino tanto Cammino tantissimo Mi piace un sacco camminare Se sono in una città E vedo che A piedi In un posto Ci arrivo in mezz'ora Cammino Cammino tanto Mi piace Possiamo dire che Tra le evoluzioni Della tua carriera Rap Canto Stand up La prossima è la corsa La prossima è la corsa Esatto Aspettiamo che il tuo manager Scopra qual è il tuo prossimo Spettacolo No il mio manager Corre anche lui Claudio è incredibile Perché ha corso con me La mia prima maratona La prima maratona Ho fatto la maratona In New York E lui era la sua Decima maratona Di New York Non in assoluto Oh dio Ok Era la sua decima Di New York Quindi domani tu a Londra Vai un attimo Cioè così a Sì Come è andata A fare un open mic Il martedì sera È un racconto Che faccio durante Lo spettacolo Quindi non te lo posso dire Perché è stata Un'esperienza incredibile Direi al nostro caro pubblico Di comprare i biglietti Ma non possono Perché sold out Ma probabilmente Adesso ci saranno Delle altre date La nostra intenzione Sicuramente Anzi Cioè nel senso Lo do come premier Perché a breve Annunceremo Diciamo anche Due date un po' più grandi Perché ovviamente Non ci aspettavamo Che sarebbe successo Lo dico senza falsa Umiltà E poi Immagino che Ci saranno Dei concerti Tra luglio e agosto Delle occasioni Dal vivo Io non voglio neanche Dire dei concerti Però che lo spettacolo Da fine giugno Poi riprenderà Lo show Diciamo di stand up Riprenderà Al chiuso Diciamo Da settembre Da settembre Penso che sarà così Le date estive Saranno una parentesi diversa Arriviamo fino a giugno Quindi Usciranno dei biglietti Su qualcosa Di giugno Quindi Non sto dicendo In anteprima Stay tuned Quindi stay tuned Prendeteveli E poi Prendeteli subito Perché poi Ci vediamo ad ottobre Sì sì Mi piace questa cosa Del momento di pace Durante la corsa Molto molto Tu ti senti proprio Infatti Come è arrivato da Come è passato Da una cosa che odiavi A una cosa che ti fa stare bene Ripetizione Del meccanismo Allora veramente Diciamo Nella prima stesura Dello spettacolo Dicevo Dicevo di questa roba Cioè che I primi minuti Della corsa Per me erano tipo Un'ossessione Pensavo a qualsiasi cosa Per ovviamente Fermarmi dopo Mezzo seconda La roba Che detestavo Mi fa male qua Mi fa male qua Che cazzo Succede a far Correre Ma il volume È troppo alto Sto sudando troppo Non ce la faccio più Mi fa male qua Ma poi Lo scatto è che Quelle cose Le provi lo stesso Ma Senti A un certo punto La testa si distrae Ok Cioè a un certo punto Superi questo momento Poi Risentirai fatica Dolore C'hai le gambe stanche Stanchissime Mentre stai correndo Non c'hai voglia di uscire Però Questo pensiero Ossessivo Dei primi 5-10 minuti Che non ce la fai Niente Semplicemente Vai avanti Non più tardi Di Non stamattina Perché la corsa Che ho fatto stamattina Era una corsa corta Non più tardi Di due giorni fa Ok Avevo da fare 12 chilometri di corsa La corsa precedente Era stata Due giorni prima Era una corsa Dove avevo un po' spinto Non le ultime spinte Prima della maratona Ti servono A non far calare La Ok La Diciamo I mesi in cui Ti sei preparato Quindi avevo le gambe Un po' maciullate Vado a correre E c'avevo Trovo due pezzi Di gesso E non lo so Avrò avuto 4-5 chilometri Quindi sono 20 minuti In cui dovevo allontanare Sto pensiero Ma anche perché Ti fermi E stai a 6 chilometri Da casa Che cazzo fai Certo Pigli il monopattino Tutto sudato No Ovviamente Ti prendi una polmonite Quindi Immaginati Ti fermi Trovi un car sharing Ti senti anche Un fallito Sì no È brutto E quindi Cazzo Lì devi stare Col pensiero Che le gambe Ci stanno Ma poi Ha detto Io poi Non faccio L'atleta Quindi Ovviamente Penso Mi devo andare a casa Mi devo fare La doccia di corsa Almeno 10 minuti Di stretching Vestirmi E poi andare a fare Ovviamente Quello che faccio Per lavoro Va di studio Quindi quando stai Là stai già Pensando a tutto Il resto E la giornata E la botta in front Comparabile ad avere Un figlio piccolo Che non ho Però Ma Liberandosi la testa Ti succede Che ti vengono idee Mentre corri Ok Anche C'è una Una Credo delle routine Più riuscite Dello spettacolo Non l'ho scritta Non l'ho scritta È venuta Tutta quanta Nella corsa Bello Tutta E non c'è scritta Ok Cioè non l'ho scritta Non l'hai mai scritta C'è scritto Telefonata Ok Era molto chiaro Per me Come era Ordinata Nella testa Molto spontanea E quindi Cazzo Quando è così Magari se fosse sempre così No? Eh se Perché ti viene al volo Scrive e cancellare È successo Dai Bello Va bene dai Siamo a un'oretta Noi ti lasciamo andare Che mi hai detto Che hai anche degli impegni Oggi Non ti vogliamo trattenere troppo Grazie davvero Di essere passato Grazie Grazie a voi Grazie per la fiducia Grazie a tutti per averci ascoltato Seguite Gamon per le prossime date I prossimi spettacoli Non dico concerti Spettacoli Per i prossimi spettacoli E diciamo Vaffanculo ai podcast true crime Volevi assicurarti che Siamo insultati Vorrei che fosse chiaro Il messaggio di questa puntata È basta podcast true crime E lo stiamo dicendo da due Che fanno un podcast sulla comicità Che fanno tutti ormai Esatto Però il vero problema di questo paese Sono i podcast true crime Il vero Esatto Bene Grazie mille a tutti Noi ci vediamo presto